Ieri all'hotel Ramada c'è stata questa irruzione dei ragazzi di centri sociali mentre c'era la giornata di scuola di formazione politica della Lega il deputato Cantala Messa ha indicato lei come responsabile di queste azioni e che devo dire, si assume la responsabilità di quello che dice io ho trovato molta violenza nel comunicato di Cantala Messa debitandomi come sindaco dell'illegalità adesso come mi state dicendo voi addirittura pensa che io possa essere il mandante ma nulla di tutto questo, mi par di capire che ci sono dei ragazzi che hanno fatto una protesta sapete che io sono una persona che ha nel DNA i valori dell'antiviolenza ma non mi sembra che io debba dire altro sinceramente il dissenso politico accade quotidianamente anche l'altro giorno c'erano 50 persone sotto Palazzo San Giacomo come accade molto spesso che mettono striscioni protestano, esercitano un diritto di critica la violenza semmai l'ho colta nelle parole dell'On. Cantala Messa quello sì, è un linguaggio politicamente violento oltre che istituzionalmente violento grazie grazie grazie